Sfuggire a questo evento che è così importante per il mezzogiorno secondo me è stato un errore. Così il presidente della regione Puglia Michele Emiliano arrivando in fiera all'inaugurazione dell'87esima edizione della campionaria di Bari. Il governatore pugliese ha commentato l'assenza della Premier Meloni sottolineando il ruolo della regione Puglia spesso in contrasto con il governo. E' evidente che l'assenza della Premier Meloni probabilmente è dovuta anche al fatto che qui in Puglia non trova gente che la applaude senza critica. Tra i temi al centro del dibattito politico c'è l'autonomia differenziata considerata da Michele Emiliano una sorta di gabbia vitale nella quale vogliono costringere il mezzogiorno. Addirittura la tegola dell'autonomia differenziata e sento dire addirittura che i saggi cosiddetti starebbero immaginando che i LEP debbano essere diversi tra nord e sud. Quindi quando devi tutelare un diritto al sud ci vogliono meno soldi che per tutelare un diritto al nord. Quindi una specie di gabbia vitale nella quale vogliono costringere il mezzogiorno. E sulla presenza della Premier il prossimo 22 ottobre a Bari per la firma del patto per la Puglia il Presidente ha commentato così. Con due anni e mezzo di ritardo speriamo che vengano.